Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Oggi cambiamo completamente argomento rispetto alle puntate precedenti perché tratteremo una situazione molto particolare che riguarda il ravvedimento operoso in materia di Imo e di Tasi per tutti quei contribuenti che il 16 dicembre non sono riusciti a pagare la seconda rata Imo e Tasi. Sappiamo tutti che l'Imo è l'imposta relativa al possesso di beni immobili situati nel territorio dello Stato e che sono tenuti a pagarla tutti i proprietari e anche tutti i soggetti che hanno un diritto reale sull'immobile. Assieme all'Imo, ovviamente sappiamo che dall'Imo è esclusa l'abitazione principale a condizione che il soggetto abbia sia la residenza che la dimora abituale. Attenzione che le due caratteristiche devono essere presenti entrambe se non il Comune può accertare l'obbligo di pagare l'imposta. Assieme all'Imo c'è la Tasi che è stata introdotta da qualche anno e che è un'imposta che è considerata iniqua dai contribuenti perché è imposta sui servizi indivisibili dai comuni, quindi sulla pubblica illuminazione, sulla sistemazione delle strade. L'Imo è un tributo ad autoliquidazione assieme alla Tasi, contrariamente alla Tarsu o Gitari, che viene mandato direttamente dai comuni sulla base delle aliquote che vengono stabilite ogni anno e delle tariffe che vengono inserite all'interno del piano finanziario Tari. Autoliquidazione significa che ogni contribuente ha l'obbligo di dichiararla e ha anche l'obbligo di liquidarla alle date prestabilite che sono il 16 giugno e il 16 dicembre. Il contributo che vogliamo dare oggi è spiegare ai contribuenti che non sono riusciti a pagare l'imposta Imo e Tasi il 16 dicembre come fare per ravvedersi, perché chi non ha pagato l'imposta è soggetto a una sanzione del 30%, che se si tratta di una semplice abitazione, di una seconda abitazione, è minima, ma se si tratta di situazioni più ampie, tipo terreno edificabile è molto più consistente. Io ho preparato una tabella al fine di mostrare come funziona questo ravvedimento. C'è un primo ravvedimento che è definito brevissimo sprint, che va fatto entro 14 giorni, si paga un quindicesimo dell'imposta, però i 14 giorni sono già passati ad oggi, quindi questo non si può fare. Quello che si può fare in questo momento è il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e si pagherebbe una sanzione dell'1,5%, poi c'è quello entro 90 giorni, con una sanzione dell'1,67%, e poi c'è quello che è detto lungo, in cui si paga una sanzione del 3,75%. Io ho messo anche nella tabella le date per far comprendere a tutti quali sono le sanzioni che si pagherebbero facendo un ravvedimento entro un determinato tempo, e cioè fino al 30 dicembre per ogni giorno dallo 0,1 all'1,4%, dal 31 dicembre al 15 gennaio, che è il periodo di riferimento in questo momento è un ravvedimento breve, una sanzione dell'1,5%, fino al 16 di marzo una sanzione dell'1,67%, fino al 30 giugno la sanzione del 3,75% come ravvedimento lungo. Attenzione però che il 30 giugno è il termine ultimo, perché è il termine di presentazione della dichiarazione IMU, passato il quale bisogna rivolgersi al Comune, il Comune può accertare una sanzione del 30%, oltre agli interessi moratori che sono veramente consistenti. Quindi per chi non è riuscito, per chi è dimenticato di pagare l'IMU e la Tasi al 16 di dicembre, vi invitiamo a fare questo ravvedimento, però su tramite il vostro commercialista che compilerà direttamente i modelli e vi liquiderà l'imposta. Un saluto alla prossima puntata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS